Possiamo dirlo? Il Marvel Cinematic Universe ha fatto grossi danni e magari uno dirà cosa c'entra con Dragon Age, c'entra tutto questo. E andiamo a parlarne. Signore e signori, se non mi conoscete, sono Francesco Toniolo, insegno in università, mi occupo di videogiochi, sono qui con la giacca dei Pokémon di ordinanza e con la maglietta cringe, perché gli argomenti di oggi volendo sono un tantino cringe, quindi è sempre bene andare a legarsi visivamente al discorso. Allora, come avete visto dal titolo, parliamo del fatto che questo nuovo Dragon Age Veilgard molto probabilmente andrà male. Quanto male? È difficile ovviamente calcolarlo, così se dovessi fare però una previsione direi sicuramente meglio di quelli che sono stati i vari Concord e dintorni, ma per il semplice fatto che parliamo comunque di un gioco che non nasce dal nulla, ha una sua storia, quindi un minimo di bagaglio dal passato, va a portarselo dietro. Una serie comunque di irriducibili che magari sono molto scontenti, però vanno comunque ad approcciarsi al gioco. Aggiungo anche, mi dispiace molto, ecco, vedere la direzione che ha preso Dragon Age, io ho sempre amato quello che è Origins, qui ho riesumato dallo scaffale quella che era la mia limited edition del gioco, l'ho molto apprezzato, tra l'altro non subito, questo può anche essere così una curiosità di passaggio, cioè io intanto ho comprato Dragon Age perché avevo prima giocato a Mass Effect, ho giocato appunto al primo Mass Effect, mi era piaciuto tantissimo, l'ho amato veramente veramente tanto, se già mi conoscete lo sapete, che io al suo tempo ebbi modo anche di laurearmi proprio con una tesi di letterature comparate su Mass Effect, quindi quale atto d'amore più grande di questo verso una serie videoludica, e quindi visto che a suo modo Dragon Age era il Mass Effect fantasy, ovviamente non è proprio la stessa cosa, ma per capirci, ho detto beh, andiamo assolutamente a provare anche questo. All'inizio non mi colpì tantissimo, ma in realtà la stessa cosa vale per Mass Effect volendo, cioè la prima partita, le prime ore di gioco, in entrambi i casi mi avevano lasciato abbastanza freddo, abbastanza indifferente. Poi dopo, nel momento in cui uno inizia a entrare un po' di più all'interno della storia, all'interno di quel mondo, ecco che si aprivano tutta una serie di meraviglie, di interessi, e quindi sono rimasto comunque molto legato a Dragon Age, per quanto rispetto a Dragon Age abbia sempre preferito Mass Effect, ma qui si entra anche in un'ottica di gusti personali. Però Origins è tuttora un videogioco di estremo interesse per tantissimi aspetti, chiaramente se dovessimo andare a vedere quella che è la sua parte visiva, era già vecchiotto ai tempi, però, come detto, se andiamo oltre questi discorsi, rimane un'esperienza assolutamente valida di quello che è un modo di raccontare una storia videoludica, che poi non è che abbia questa complessità da grande classico della letteratura, non è che sia un disco Elysium, però siamo davanti a un prodotto che fa molto bene quello che deve fare, quindi raccontare una storia di un mondo a suo modo comunque abbastanza vicino a quello che è il fantasy tradizionale, ma andava a inserire tutta una serie di tocchi particolari, che dopo sono stati ripresi anche da altri prodotti mediali, ma che in quegli anni erano abbastanza peculiari, abbastanza caratteristici, quindi c'era questo bel contrasto tra una serie di elementi noti che quindi ti facevano sentire comunque a casa e tutta una serie poi di altre parti dove invece si aggiungevano questi elementi di maggiore curiosità. C'erano diverse parti del gioco che prendevano direzioni diverse, alcune anche un po' più orrorifiche, tutta la parte dove andavi lì nei sotterranei partendo dalla terra dei nani, trovavi queste broodmother, insomma c'erano tanti elementi che andavano in varie direzioni, c'era molta politica, molto pensiero strategico anche nei confronti dei propri compagni di squadra, c'erano tanti bivi, il finale prendeva varie direzioni che poi venivano appena accennate, se ricordate non è che ci fossero grandi filmati conclusivi, però anche solo mettendo due o tre scritte riassuntive ti davano l'idea che le tue scelte avessero effettivamente avuto un impatto che andava anche oltre i confini dell'avventura, oltre i confini del gioco. Poi c'è stato Dragon Age 2, poi c'è stato Inquisition, molto velocemente posso dirvi che Inquisition mi aveva già fatto largamente perdere interesse, quindi l'ho un po' giocato, ma poi a un certo punto l'avevo anche lasciato perdere. Dragon Age 2, pur con tutti i suoi problemi, era comunque mantenuto interessante da quella che era una storia di fondo che aveva comunque una sua curiosità, dei personaggi di contorno che in alcuni casi restavano abbastanza interessanti, questo è sempre stato uno dei punti di forza tra l'altro di Bioware che non è che appunto abbia mai saputo, o meglio, non è che abbia sempre saputo mettere in campo questa grande narrazione di potente originalità, ma sicuramente aveva una grande maestria, un grande gusto nella costruzione dei personaggi secondari, che erano i veicoli principali per farti poi immergere nel mondo di gioco. Questo appunto in Mass Effect lo si vede benissimo, dove tutta la lore sulle varie specie della galassia e su tante altre cose, sì, uno poteva andare a leggersi il Codex, andavi a esplorare i pianeti, ma quello che era il primo impatto con tutto questo era andare sulla Normandy, parlavi con Tali, parlavi con Garrus, con Liara, con Rex, e ti raccontavano un po' la storia del loro popolo attraverso anche quella che era magari la loro vita, il loro percorso individuale. Quindi grandi personaggi a cui molti si sono affezionati, lo stesso possiamo dire appunto se vediamo un Dragon Age con Orrigan, Leliana e tanti altri. Come detto Inquisition già marcava piuttosto male, è stato sicuramente molto travagliato lo sviluppo, questo lo racconta, libro tra l'altro che forse conoscete, molto famoso, Blood, Sweat and Pixels, che va a raccontare, va a ricostruire la storia produttiva di diversi videogiochi, tra cui appunto Dragon Age Inquisition, che è uno degli ultimi, e dice che insomma è stato un caos totale, e che in realtà spesso accadeva poi dentro a Bioware che lavoravano un po' in questo modo, cioè che facevano delle cose a volte senza un particolare ordine, non c'era una catena di comando molto ben fatta, però c'era questa sorta di Bioware magic, per cui a un certo punto le cose andavano a mettersi a posto in qualche modo, e quindi riuscivano a cavarsela, che chiaramente non è una buona strategia, perché finché ha funzionato, tanto meglio, e poi qui appunto veniva raccontato di tutta una serie di problemi evidenti. Arriviamo al nostro Veilgard. Non ho personalmente alcun interesse nel giocarlo, quindi molto probabilmente non lo giocherò subito, magari poi prima o poi capita l'occasione, andrò a recuperarlo, perché comunque insomma può essere curioso, ma mi interessa più come studio di caso, cioè mi interessa più se metto il cappello da docente universitario, che non da Francesco Tognolo, videogiocatore. Cioè se io mi vedo come appunto videogiocatore, che era alla fine del liceo, mi sembra, quando avevo comprato Dragon Age, insomma quindi una ormai quindicina di anni fa, più o meno, 15-16, che ero molto appassionato di questo gioco, adesso vedendo quest'ultimo Dragon Age non ho alcun interesse. Mi può incuriosire, come detto, per andare a toccare con mano tutta una serie di scelte, che già appaiono comunque molto chiare da quelli che sono i trailer, i gameplay mostrati, e quindi che mi fanno dire, appunto come segnalavo in anticipo, che quasi sicuramente questo videogioco andrà male, purtroppo. Lo dico davvero un purtroppo di cuore, sia per l'amore che ho avuto verso questa serie, verso BioWare in generale, sia perché chiaramente quando un videogioco va male, ed è un progetto grosso, ed è già fatto da un team che nell'ultimo periodo non è navigato in buone acque, questo può comportare una serie di licenziamenti, può portare addirittura alla chiusura dell'intero studio, nel suo totale riassorbimento, li mandano a fare tutt'altra cosa, insomma possono succedere tante cose. Però detto questo, è inutile nascondere il fatto che ci siano dei problemi grossi. Tante questioni sono state anche ben sottolineate in un video di Fenrir Mailoki, di Lara Arlotta, che magari vi metto anche il link qui sotto in descrizione, ma probabilmente l'avete visto, perché insomma chiaramente ha molte più visualizzazioni di me. Però insomma, tante questioni sono esposte lì su quelli che sono diversi aspetti del gioco. Quello che volevo prendere qui è una riflessione un po' più di carattere generale, che poi può essere giustamente declinata e spezzettata in tutti questi elementi, che sono stati anche sottolineati da Lara. Cioè, il fatto che Dragon Age Veilgard non ha nulla a che vedere con quello che è stato Dragon Age, non ha nulla a che vedere con la specificità di Dragon Age, non ha nulla di interessante mediamente per quelli che sono molti dei fan di Dragon Age. Ora, qui si pone quello che è un grande, un enorme interrogativo che molti si fanno, e che spesso sento emergere anche molto a sproposito, anche da parte di giornalisti, influencer, e questa cosa mi lascia un po' perplesso. Cioè, quando magari arriva un fan, un appassionato, un utente, che va a lamentarsi di questa cosa, la risposta è, ebbè certo, ma non possono mica basarsi su quel pubblico lì. Ma questo è un grosso problema, che sta mostrando il fianco in tantissimi, tantissimi casi, non solo nei videogiochi, ma in tutto l'ambito delle industrie culturali e creative. E in questo 2024 lo si è visto in una maniera molto forte, molto diffusa, ma non è un fenomeno nuovo. Semplicemente quest'anno è stato così diffuso e così evidente che mano a mano diverse persone se ne stanno rendendo conto. Ma sono cose che mi capitava di trattare a lezione, io appunto insegno, soprattutto alla Cattolico, ho vari corsi, alcuni specifici sui videogiochi, altri sono più generali appunto sulle industrie creative, e capitava di sottolineare questi aspetti già qualche anno fa. Quindi la direzione è quella, semplicemente adesso è diventata molto più evidente, ma è una traiettoria su cui stiamo viaggiando già da un po'. Cioè, qual è il problema? Il problema è che è per certi aspetti vero quella che è l'obiezione che viene fatta, come detto a volte che sento fare da giornalisti, anche da semplici utenti. Cioè il fatto che uno dice, sì, ma il pubblico, l'utenza storica di un gioco come Dragon Age, non ti basta. Uno per rientrare nei costi del AAA contemporaneo deve beccare un pubblico più ampio. Ma il problema sta proprio qui, appunto, che diventa il classico cane che si morde la coda. Cioè un problema che va ad autoalimentarsi. Mentre invece la soluzione sarebbe uscire da questa logica di pensiero e andare in un'altra direzione. Andiamo a spiegare il perché. Perché a livello teorico, cioè se ci mettiamo così, no, in un mondo puramente teorico-concettuale, è giusta questa cosa. E quindi uno dice, per fare quello che è oggi un AAA, poi addirittura qualcuno parla di quadrupla A, però non complichiamoci la vita, insomma, comunque una delle produzioni grosse sul mercato, io devo spendere diverse decine di milioni, probabilmente anche devo andare oltre i 100 milioni. E a questi devo aggiungere poi tutta una serie di ulteriori soldi per quello che è marketing, comunicazione, PR ed intorni. Quindi, per rientrare in questi costi, che sono molto elevati, io devo andare a prendere un gruppo molto ampio di persone. Giusto? Ma c'è un problema che diventa appunto un gioco sempre più rischioso, perché io non sono in grado di trasformare qualunque cosa in un prodotto per tutti. Questo è un punto primo, ma è già fondamentale. Perché ci sono videogiochi che non nascono per essere diffusi in modo così trasversale. Però ricordiamo anche che questo tutti è relativo, ovviamente, qui faccio una piccola parentesi, ma è chiaro che il videogioco per tutti non esiste, cioè nessun prodotto è mai per tutti, veramente, ok? Ci sarà sempre comunque qualcuno che non è interessato. Però, in linea di massima, è chiaro che siamo davanti a certi videogiochi che hanno un potenziale molto molto ampio, ci sono altri che sono pensati per delle nicchie più ristrette che non possono essere estesi. Anche perché, qual è il rischio? Il rischio è che io vado a snaturare totalmente quella che è la loro natura, quindi vado a perdere tutta la parte storica di appassionati, senza andare a conquistare un nuovo pubblico. Anche perché questo nuovo pubblico su cui cerco di espandermi è quello che viene costantemente bersagliato da tutte le parti. Quindi mi trovo ad avere una concorrenza mostruosa, una concorrenza enorme. Per cui, se tutti appunto cercano, nello stesso modo, più o meno con lo stesso approccio, di puntare sulle stesse persone, è chiaro che qualcuno di questo bacino di utenti andrà a comprare alcuni di questi videogiochi. Ma sto appunto diluendo quelle che sono le mie energie, le mie forze, in un'operazione che è sciocca. Cioè, davvero, qui si torna un po' a quelle che sono le basi del marketing. Le basi del marketing sono che tendenzialmente quando tu non sei Coca-Cola, ok? Quando non sei queste cose enormi, queste entità multiglobali, iperpotenti, universali, quando non sei quella cosa lì, cosa devi fare? Devi tendenzialmente partire sempre da quello che è un tuo pubblico che già sai di avere e che sono quindi quelli più affezionati su cui hai una buona sicurezza che se tu vai di nuovo a proporre loro qualcosa di loro interesse, questi vanno a comprartelo e ti sostengono nel tempo e quindi fanno anche poi da cassa di risonanza, attivano il passaparola, tutta una serie di cose che di per sé non sono sufficienti per stare in piedi, perché il gioco sul passaparola vuol dire un po' come sperare di vincere col grattevincio, con la lotteria, cioè diventa qualcosa di casuale. Però sicuramente, se ho lavorato bene, posso contare anche, sottolineiamo anche, sul passaparola di quelli che sono i miei appassionati storici. Poi, partendo da lì, io cerco magari di allargare un po' il mio pubblico, sapendo però che più di tanto in là non potrò andare, perché ogni tipologia di videogioco, ma avrebbe da dire ogni tipologia di prodotto, è pensata per delle persone e quindi ci saranno sempre tutta una serie di persone a cui non fregherà minimamente niente di quel prodotto e di quell'esperienza, neanche se l'avessero gratis. Perché, potete farlo davvero come esempio concreto, cioè se voi parlaste con un cinefilo super appassionato di cinema che va al cinema 40 volte all'anno, un dato enorme, però c'è qualcuno a volte che così io incontro anche ai master, mi segno a un master dove sono tutti super appassionati di cinema, vanno davvero, almeno una volta al mese vanno al cinema, che già è tantissimo per la media italiana e spesso anche più volte al mese, quindi magari qualcuno ti dice davvero che va 30-40 volte all'anno al cinema, lo fanno in pochissimi in Italia una percentuale veramente minima. Per cui, se tu andassi da una persona così a dire guarda, ti do dei biglietti per il cinema con un super sconto, con due euro, vai a vedere quello che vuoi, o addirittura ti regalo dei biglietti del cinema, questa persona fa i salti di gioia. Ma se voi andaste nel bar di quartiere del vostro paese da una persona a caso a dire ti regalo dei biglietti per il cinema, quello non gliene frega niente in molti casi. Poi magari beccate la persona e dice ah, va beh, grazie, ok, gratis, magari ci vado. Ma in tanti altri casi neanche gratis ci andrebbe, soprattutto se magari è un film che non gliene frega niente. Perché già al dire ok, però va bene, il biglietto è gratis, ma io devo prendere la macchina, andare fino al cinema che magari non è così vicino e il posteggio dove lo trovo e poi devo comprare i popcorn e la coca cola perché insomma vuoi stare lì dentro due ore senza mangiare qualcosa e poi questo, quello e quell'altro e quella sera quindi magari c'è invece la partita di calcetto con gli amici oppure devo andare al bar a fare l'aperitivo e quindi perdo questa cosa, non ci va. per cui l'idea stessa appunto di dire diamo qualcosa gratis sicuramente manderebbe più persone al cinema ma non è che allora tutt'Italia andrebbe al cinema ok? Quindi la stessa cosa vale per videogiochi di questo genere e qui quindi un'operazione come Veilgard significa far sostanzialmente perdere l'interesse di quella che è la maggior parte dell'utenza storica gli utenti più appassionati di quelli che seguono Dragon Age da Origins di quelli che pur con tutti gli alti e bassi della serie che per molti sono più bassi che alti ok? e anche per me dopo Dragon Age Origins è stato effettivamente nell'insieme un calo costante però tutte queste persone che comunque continuano a dare fiducia a Bioware che continuano a sperare in un nuovo Dragon Age non sono interessate perché questo non ha nulla di Dragon Age se non il titolo è inutile stare a negarlo perché quali sono state le caratteristiche forti di Dragon Age? Una per esempio è questo suo essere piuttosto dark piuttosto cupo sanguigno sanguinolento violento si è sempre stata questa questa dimensione qui molta cupezza molta oscurità se uno guarda Veilgard sembra di vedere appunto a parte che sembra un MMO e probabilmente stava nascendo come MMO poi è stato riconvertito e riciclato a metà del progetto per trasformarlo in qualcosa di diverso ma a parte quello proprio guardando anche solo un'immagine anche solo la locandina la capsule image insomma una qualsiasi immagine promozionale di Veilgard sembra di vedere gli Avengers fantasy e questo è come detto un grosso problema perché impedisce a questo gioco di avere quella sua identità riconoscibile che lo renderebbe appetibile per una nicchia di persone adesso poi arriviamo e ci arriviamo al discorso dei costi dei AAA attenzione non l'abbiamo dimenticato per strada lo riprendiamo tra un attimo prima finisco con questo punto qui cioè mi è capitato di recente un'immagine che era un collage adesso non so se riuscirò a ritrovarla nel caso l'aggiungo al video ma comunque faceva un collage di tutta una serie di capsule image sapete quelle immaginette che si mettono anche su Steam come quei bannerini chiamiamoli dove c'è il titolo del gioco e c'è un insomma magari dei personaggi intorno che sembravano tutti la stessa cosa cioè di fuori che magari uno dice ok questo è un po' più fantasy questo è un po' più fantascientifico ma avevano più o meno tutti la stessa cromia di fondo la stessa disposizione dei personaggi e in molti casi richiamavano appunto un po' al fondo questa sorta di quello che è stato davvero il Marvel Cinematic Universe per quello dicevo che ha fatto danni perché siamo sommersi di prodotti che si approcciano in quel modo in un modo molto sciocco e non vale solo per i videogiochi ma vale per le serie tv vale per i film vale per un numero enorme di prodotti cioè c'è stata proprio questa Marvelization potremmo dire dove quindi tutto è approcciato in questo modo anche le Magic oggi stavo vedendo un video sulla storia delle Magic le carte Magic intendo perché io non ci gioco più da anni per tante ragioni credo non non riprenderò mai a giocare però mi incuriosiscono cioè comunque hanno sempre avuto un loro un loro fascino mi piace poi è comunque insomma interessante o piacere tenermi informato anche in un'ottica come detto sempre di studio di ricerca e alcune ultime espansioni di Magic anche in quel senso per quello che non tanto le meccaniche di gioco introdotte ma l'immaginario sembra sembra la guerra contro Thanos quando c'è lì Avengers assemble che si aprono i portali arrivano tutti quanti e hanno fatto la stessa cosa quando c'era stata cos'era l'espansione la marcia delle macchine mi sembra adesso magari sbaglio il nome comunque una delle espansioni della guerra contro Firexia che tutti i mondi si aprono i portali arrivano lì a New Firexia e c'è la battaglia e ci sono proprio alcune immagini sulle carte che se le avesse presi fuori dal contesto avrei detto ok questa è una fan art di Avengers Endgame o un altro film della serie dove arrivano tutti dal Wakanda da Asgard da tutte le parti contro Thanos i dialoghi i dialoghi sono totalmente appiattiti in tutta una serie di prodotti su quelli che sono i dialoghi Marvel questa sorta di ironia supereroistica durante le battaglie che ha fatto danni ha fatto danni mi dispiace dirlo perché poi diventa fastidioso perché poi io i vari film del Cinematic Universe un po' li ho visti e per quanto non mi faccia impazzire come approccio ma almeno in quel caso il film è pensato con quella logica cioè tutto è costruito partendo da lì quindi partendo dal fatto che Hulk Iron Man Thor ed intorni mentre stanno combattendo contro Thanos contro Loki contro chiunque Ultron o qualunque altra entità fanno le battutine ogni tanto si colpiscono da soli cioè ci sono queste varie gag e va bene ok cioè non è una cosa come detto che mi piace particolarmente però ha un suo senso per come è fatta lì posso capirlo il problema come detto è che poi ha generato i mostri quelli veri perché è tutta una serie di cloni che vanno in quella direzione e lì uno si domanda anche il perché e probabilmente c'è un come spesso succede un concorso di cause quindi da un lato probabilmente c'è qualcuno dall'alto che dice ah ok il Marvel Cinematic Universe ha fatto ventordici miliardi quindi il nostro prodotto qualunque cosa sia anche se magari stiamo facendo Peppa Pig deve andare in quella direzione lì perché dobbiamo attirare la modern audience il pubblico moderno che poi non vuol dire niente il pubblico moderno ok questa è un'altra cosa perché anche qui c'è in troppi ambiti un'insistenza eccessiva quando si parla sul target del discorso generazionale che è importante ma non è l'ultima cosa si vanno invece a trascurare altri aspetti quindi per andare con la modern audience l'audience moderna ecco che allora dobbiamo mettere quei dialoghi lì quelle battutine che però non funzionano o magari non sono neanche scritte da persone così capaci probabilmente magari può anche essere che magari l'autore stesso a volte invece è cresciuto a pane e film della marvel inizia a lavorare in quel in quell'ambito della appunto sceneggiatura per serie tv videogiochi o quant'altro e va ad approcciarsi magari a sua volta in modo autonomo in modo spontaneo a questa cosa qui che è brutta però si è messa in dragon age perché dragon age non c'entra niente con questa cosa e quindi certo che se noi andassimo a prendere anche origins c'era il momento della battuta c'era il momento dello scherzo il bisticcio tra due personaggi che andavano a punzecchiarsi così come c'è stato in mass effect e già lì mass effect diventava un po' troppo dando verso il terzo in certi casi però un conto è quando sono determinati momenti che vanno un pochino anche a darti quel quel momento di respiro di sollievo che sei lì tutto concentrato sei preso dalla guerra al cataclisma alla catastrofe ecco che c'è quel attimo di alleggerimento che poi può essere più interessante o meno interessante però anche il signore degli anelli la trilogia cinematografica originaria cosa vediamo che lì c'era appunto Legolas e Gimli che dicevano ah io ne ho uccisi già due io sono a 17 queste cose qui però erano dei piccoli momenti delle piccole parti che poi qualcuno avrebbe anche detto io ho ritolto anche quelle ci si può anche ragionare però appunto un conto è l'aggiunta il pizzico come un pizzico di sale che viene messo alla fine su un piatto un pochino di pepe un altro conto è dire qui ho pucciato Dragon Age in questo mare di sale e pepe lo tiro fuori così com'è non c'entra niente non c'entra niente perché appunto ha questi due problemi chi aveva amato il Dragon Age cupo oscuro sanguinario già vedendo queste cose già il suo interesse parte basso e invece a chi apprezza quell'immaginario quindi chi invece ama l'approccio alla Marvel Cinematic Universe la domanda che si pone ma perché dovrebbe piacermi Dragon Age cioè se io ho già tutta una serie di prodotti che vanno in quella direzione fin dall'inizio perché dovrebbe interessarmi Dragon Age o una qualsiasi altra serie che tenta di essere riconvertita in questo modo più o meno maldestro perché poi appunto la competizione è enorme il prodotto finisce per essere indifferenziato anche già visivamente cioè quando tu hai una capsule image e questo è un punto fondamentale che tocco spesso a lezioni anche quando parlo privatamente con degli sviluppatori di videogiochi cioè quella è una cosa su cui bisogna ragionare con estrema attenzione perché è il primo elemento di interesse e riconoscibilità per molti che si approcciano a quello che è il tuo gioco poi uno ci può arrivare da altre parti è già stato educato a conoscere i tuoi contenuti da un'altra parte ma in tanti casi no e quindi se la tua immagine il tuo logo mi ricorda per disposizione dei personaggi Cromia c'è tutto questo questo violetto sbattuto da tutte le parti mi ricorda altri 50 videogiochi che sono usciti nell'ultimo anno negli ultimi due o tre anni già partiamo molto male perché non c'è alcuna cosa che mi faccia dire appunto a me che sono invece magari di questo nuovo pubblico più ampio che cerco di conquistare dire va bene ma tra questi ventordici mila prodotti che sono pensati per essere alla fine questi più o meno come detto figli e figliocci del Marvel Cinematic Universe come approccio per lo meno un narrativo ai dialoghi eccetera perché dovrei scegliere proprio il tuo e quindi perdo i miei fan storici senza conquistarne di nuovi e questa sembra proprio la situazione purtroppo a cui va incontro Veilgard che manterrà quello sì perché è una cosa che è emersa anche lì dal video di Lara veniva sottolineato si terrà questa piccola piccolissima nicchia di appassionati che avevano un approccio molto da fanfiction tra l'altro e lì c'è anche un altro errore che invece tu devi a livello punto teorico poi non è sempre facile da calare nella realtà però idealmente uno dovrebbe dare un prodotto di interesse per il proprio pubblico ma al tempo stesso facendo attenzione a non ascoltare troppo il proprio pubblico perché il pubblico ti dice una serie di cose che sono a volte assurde a volte che non gli piacciono neanche realmente e quindi bisogna sempre riuscire a filtrare mentre invece sembra che anche in questo senso il team di BioWare stia avendo un approccio molto pericoloso cioè quello di circondarsi di questa sorta di di cricca ristretta di super appassionati che è tutta gente poi appunto che rischia di trasformare la storia di Dragon Age in una grande fanfiction e quindi loro dicono vabbè ok cos'è che hanno raccontato nelle fanfiction che si sono inventati bene dai mettiamo questo mettiamo un po' di quello il rischio che esca un pastone è ancora più grande perché appunto non è un caso che poi molte idee da fanfiction debbano rimanere nel mondo delle fanfiction cioè devono stare lì e magari funzionano anche in in quel contesto un po' fanmade divertente ma quando poi il creatore originario va a recuperarle deve filtrare con estrema attenzione perché a volte puoi trovare delle richieste che effettivamente funzionano a volte succede anche il caso di Bioware che all'inizio appunto non avevano pensato di mettere in Mass Effect tali e Garrus come Romance poi la fanbase a gran voce ha detto ah ma quanto sarebbe bello averli come opzioni romantiche li hanno aggiunti e sono generalmente tra i più amati di tutti quindi in quel caso ha funzionato ma tutta un'altra serie di cose che erano emerse nella community bene che siano rimaste nella community perché avrebbero solo generato un gran caos all'interno di quella che è la storia del gioco la storia del mondo la lore che deve mantenere una sua direzione e quindi è molto pericoloso anche questo per cui appunto c'è una differenza tra il dire ascolto il fan qualunque cosa mi dica e il dire ascolto il fan che comunque è giusto capire cosa vuole ma poi devo capire di cosa ha bisogno questa bella frase del che viene dalla principessa il ranocchio tra l'altro che se vogliamo anche lì ha una grande lezione di marketing al suo interno cioè quando se l'avete visto la principessa il ranocchio della Disney che quando Tiana e Navini i due protagonisti vanno da Mama Odi da questa strega nella palude per tornare umani e Mama Odi gli dice insomma che cosa di cosa avete bisogno loro dicono dei loro desideri e lei fa io non vi ho chiesto che cosa desiderate vi ho chiesto di cosa avete bisogno che sono due cose diverse e anche qui quando io porto al pubblico un prodotto non è sempre detto che io debba dargli ciò che lui desidera dovrei dargli ciò di cui ha bisogno in molti casi devo trovare poi una via di mezzo cioè generalmente qui dopo ci porterebbe su discorsi su altri prodotti che non sono tanti videogiochi però diciamo molto velocemente perché insomma mi fa piacere anche spiegare un po' di cose con questi video soprattutto se è un prodotto per esempio pensato per risolvere non so un problema di salute magari la soluzione per il tuo problema di salute è diversa da quella che tu utente hai nella testa però se io ti dico guarda che tu stai sbagliando tu cioè dici di aver bisogno di questa cosa ma non è vero magari quello rigetta la mia la mia offerta quindi bisogna andare un po' in quei casi a mediare per cui fargli magari credere che ti sto dando quello che desideri in realtà non è proprio quello è ciò di cui hai bisogno un po' mascherato e quindi anche in questo caso però nel nel discorso sui fandom quando ci si approccia al fandom quindi a questa base che va anche a produrre contenuti che è molto attiva che è molto vivace nell'esprimere le proprie idee bisogna sempre fare molta attenzione perché a volte quando poi gli offri ciò che loro credono di desiderare si rendono conto poi che quella cosa non gli piace così tanto quindi meglio dare invece ciò di cui hanno bisogno in Veilgard credo manchino un po' entrambe le cose cioè se si è preso un po' questo questo approccio da vediamo un po' cosa ci dice il fandom come reagiscono a queste idee molto da fanfiction tralasciando però appunto tutta una riflessione su sì ma mediamente che tipo di gioco interessa al mio pubblico alla mia base al mio al cuore a cui sto andando a puntare non ho dimenticato come dicevo prima il discorso sui costi perché come dicevo l'avevo già un po' accendato e secondo me l'avete anche già capito dal discorso però sempre meglio essere chiari meglio piuttosto come le dico anche a lezione preferisco dire una cosa una volta in più ma essere più sicuro che venga capita che una volta in meno il punto qual è? il punto come detto è che bisognerebbe proprio uscire da questa logica perché come abbiamo ripeto un attimo il discorso e ripeto sconeggiarlo avete capito se aumentano i costi e per fronteggiare l'aumento di questi costi io devo vendere a più persone e devo anche di solito vendere di più quindi tutti poi i games a service pass dlc microtransazioni eccetera eccetera il fatto è che appunto non posso permettermi in molti casi questa cosa per le ragioni che abbiamo detto ma allora sarebbe molto meglio fare un prodotto più piccolo meno costoso quando io so che tanto la mia base di riferimento è quella quindi piuttosto fare come fu anche Dragon Age Origins un qualcosa che magari è meno bello visivamente e allora a quel punto lascia poi che tutta una serie di rosiconi vadano a lamentarsi perché non sono il tuo pubblico non è che comunque andresti a conquistarli in massa solo perché fai un po' di più sul versante della potenza grafica di dire guarda un po' quanti pixel abbiamo ai peli del naso del personaggio quindi lascia anche che si lamentino se quello che stai facendo ti permette di avere un prodotto meno costoso ma su cui hai una buona probabilità perché la sicurezza assoluta non c'è mai ovviamente ma una buona probabilità che la tua fanbase vada a amarlo cioè non solo a comprarlo vada ad amarlo perché poi che qualche appassionato storico di Dragon Age vada a comprarsi anche Veilgard non lo metto in dubbio ma non andrà a parlarne bene andrà solo a dire tendenzialmente che è rimasto ancora una volta deluso e scottato quindi sarebbe molto meglio ragionare in quest'ottica che mi rendo conto sia qualcosa che appunto una grande azienda una corporation fatica a fare ma diventerà molto probabilmente una necessità in tanti casi cioè quello che abbiamo visto in quest'ultimo anno e mezzo circa non è la fine del videogioco non è la crisi del videogioco come mercato è la crisi di un certo modo di produzione una certa tipologia di prodotti e quindi non è un caso che molti stanno dicendo che tolti alcuni pilastri molto solidi su cui comunque adesso anche serie che sembravano assolutamente solide stanno un po' scricchiolando ma insomma molti dovranno per forza di cose tornare a fare dei prodotti meno costosi che quindi non vuol dire che allora tutti diventano indie vuol dire che fai dei prodotti comunque che costano diverse decine di migliaia di dollari ma che non vai appunto per forza di cosa dover fare qualcosa che ti costa 200 milioni e che se poi quindi lo sbagli ti trovi con un problema enorme meglio appunto soprattutto quando hai uno storico quando hai qualcosa da cui partire dire va bene è inutile trasformare Dragon Age in qualcosa che non sarà mai è inutile andare a cercare di pescare delle persone che non saranno tendenzialmente mai interessate a Dragon Age piuttosto stiamo su quella che è la base storica e quindi se un videogioco da 200 milioni ovviamente una cifra a caso costa troppo per andare su quelle persone gli si fa un gioco meno costoso gli si fa una diversa esperienza di gioco che sia monetizzabile giungo anche perché dopo giustamente so che a volte emerge anche questa obiezione a volte a volte va anche bene invece lasciare da parte quella che è la propria fanbase storica per conquistare un mercato più ampio ma deve essere qualcosa anche lì che è ragionato cioè io devo avere una buona certezza del fatto che questa operazione vada in porto e quindi devo andare anche lì tendenzialmente non a fare il appunto il Marvel Cinematic Universe ibridato con Dragon Age ma dovrei fare un qualcosa che mi dice ok togliamo certi elementi che scontenteranno i fan storici ma che piaceranno a un'altra tipologia di persone che comunque sarà una sorta di nicchia ma più grande di quella precedente ok quindi questo era era un po' il discorso poi chi lo sa magari invece questo nuovo Dragon Age si risolleverà sarà bellissimo incredibile fantastico non credo per ora per ora si vede molto molto fumo negli occhi purtroppo anche cioè anche tanti discorsi di l'inclusività di questo videogioco sono appunto fumo negli occhi per andare un po' a pararsi come spesso poi succede cioè anche qui tanti degli approcci di queste grandi realtà delle corporation al discorso questa estrema sottolineatura sul fatto di dire sì però ti ho messo questa tale opzione di personalizzazione del personaggio che quindi diventa più inclusiva perché così il personaggio ha la vitiligine che è anche giusto è dire ok effettivamente così chi ha la vitiligine si sente rappresentato però puntare la comunicazione in massa su questo ti fa pensare che appunto visto che non è una cosa nuova anche qui è stata studiata e ristudiata in più settori che sia un modo per spostare l'attenzione da un lato per fare magari un po' di chiamiamolo rage baiting quindi comunque far parlare del gioco anche solo perché arrivano tutta una serie di persone incattivite e quindi però intanto parlano costantemente del tuo gioco e speri di raggiungere quindi delle persone interessate che spoiler in alcuni casi particolari ha funzionato nella media non funziona se no se così fosse Concorde e Dustborn sarebbero stati i giochi più venduti dell'anno cosa che ovviamente non sono minimamente stati quindi è un modo per difendersi anche perché allora a quel punto quando uno va a criticare il gioco magari a volte va anche ad autocensurarsi in alcuni settori perché dice sì però se vado a criticarlo troppo poi sembra che lo sto criticando per l'inclusività e quindi insomma vai un po' mediare oppure per delegittimare le critiche quindi se arrivano persone molto arrabbiate che magari non parlano minimamente del discorso dell'inclusività ma li puoi mettere nel mucchio e puoi dire vedi siamo sotto attacco da parte dei trollini di 4chan che ce l'hanno col gioco solo perché siamo stati inclusivi mentre alcuni ovviamente lo attaccano per quello ma tante altre persone magari sono totalmente deluse e sfiduciate per altre ragioni però è un modo per come dire provare un po' a difendersi in questo senso che anche qui sono pratiche che stanno mostrando sempre di più il fianco comunque vedremo poi ovviamente la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno quindi chi lo sa magari poi salterà fuori qualcosa di misterioso di incredibile ditemi anche voi aspettate questo nuovo Dragon Age avete giocato i precedenti vi sono piaciuti Dragon Age avete visto il video di Lara insomma fatemi un po' sapere nei commenti iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto che man mano andiamo a trattare varie questioni che un po' su questo appunto mercato dei videogiochi e ci si vede al prossimo video e ci si vede